Nel 1956 l'unico a contendere il quarto titolo iridato al ferrarista Fangio fu Moss con la Maserati 250F. Il britannico vinse il secondo gran premio della stagione a Monaco in modo autoritario mantenendo il comando per tutti i cento giri della corsa nonostante gli attacchi dell'argentino. Nello stesso anno Moss partecipò con la Maserati 300S anche al mondiale sport rinnovando così il duello con i piloti della Ferrari Fangio Castellotti e Musso già suoi rivali nel mondiale di Formula 1. Alla mille chilometri del Nürburgring il via fu dato con la partenza del tipo Le Mans con i piloti schierati davanti alle auto raggiunte e messe in moto dopo una breve corsa. Fin dal via Maserati e Ferrari furono protagonisti di un bel duello. Fangio autore del tempo più veloce in prova con la Ferrari 860 Monza prese subito il comando inseguito da Berat compagno di Moss. All'undicesimo giro però Berat ruppe la balestra trasversale della sospensione posteriore e fu costretto al ritiro. Berat salì però sulla vettura dei compagni di squadra Piero Taruffi e Harry Schell terzi assoluti portandosi con una buona rimonta al secondo posto prima di sostare i box al ventitresimo giro per il rifornimento. In queste immagini si vede proprio lo stesso Moss effettuare il rifornimento per poi riprendere la corsa. Approfittando di due soste di Fangio di cui una non prevista per controllare le sospensioni Moss fu autore di una rincorsa strepitosa. Rimontando 5 secondi al giro sull'argentino riuscì a passare al comando a 4 giri dal termine e concluse al traguardo con un vantaggio di 26 secondi su Fangio e Castellotti. Fu una delle vittorie più esaltanti della Maserati nelle gare sport e al successo sul podio parteciparono anche Taruffi e Schell.